Presidente, l'interrogativo non è di poco conto. Come cambia il mondo dell'agricoltura? Il mondo dell'agricoltura sta cambiando in un modo importante, perché è tutto il sistema, il sistema mondiale che chiede all'agricoltura di cambiare. L'agricoltura oggi è per il Paese e per la nostra regione un'opportunità importante, perché le industrie si sono delegualizzate, le risorse umane, le intelligenze, gli scienziati vanno all'estero. L'agricoltura non può andare all'estero, perché l'agricoltura è legata al territorio, ha le radici nel terreno. Noi dobbiamo fare una cosa molto importante, dare valore a questa agricoltura, ma in un modo concreto definitivamente dobbiamo percepire il mondo agricolo come un'opportunità di impiego di produzione per quanto riguarda la società, ma anche in termini di esportazione di prodotti. La bilancia dei pagamenti è una cosa che sentiamo quotidianamente, sentiamo dire da tante fonti, si parla di bilancia di pagamento, di PIL, di deficit e quant'altro. L'agricoltura è un settore che può contribuire all'equilibrio della bilancia dell'import-export in un modo importante. Questo potremmo farlo soltanto se saremo in grado di dare un valore aggiunto attraverso l'ammodernamento delle imprese, l'ammodernamento delle aziende, la specializzazione delle aziende, l'introduzione di nuove tecnologie fermo restanti a quelle che sono le tradizioni culturali del mondo agricolo della nostra regione. La politica deve guardare all'agricoltura con un occhio diverso, ha detto il Presidente Pasetti. È d'accordo lei? Sono assolutamente d'accordo con il Presidente Pasetti. La presenza di questa sera, di questo convegno così importante, soprattutto così partecipato, ci dice che l'agricoltura è determinante nei prossimi anni. La prossima PAC, la prossima gestione del piano di sviluppo rurale sono lì a rappresentare questo futuro brillante del settore agricolo. Cosa potete fare voi, al di là di dare dei fondi che poi sono importanti? Possiamo programmare. In questi giorni stiamo predisponendo il piano di sviluppo rurale che consentirà nei prossimi sette anni di gestire la nostra agricoltura nel migliore dei modi. Dobbiamo porre le basi per dare dei semi essenziali che possono dare dei germogli importanti per la nostra economia, per i nostri giovani, per il nostro reddito, per l'impiego in agricoltura. Risorse importanti, 432 milioni di euro solo col piano di sviluppo rurale, oltre ai fondi dell'OCM e del primo pliastro. Sono fondi fondamentali per dare alla nostra regione un futuro brillante.